Buonasera a tutti, io sono Angela e sono pronta per voi per anticiparvi l'ultimo episodio di Saint Can't Copy Me, la soppopera turca che in Italia la stiamo seguendo con il nome Love Is In The Air. Qui siamo arrivati alla metà della prima stagione, mentre in Turchia, con precisione, l'8 settembre alle ore 20 su Fox Turchia, assisteremo chi vorrà all'ultimo episodio di Saint Can't Copy Me, il finale che si annuncia lieto ma scoppiettante, scopriamo insieme che cosa accadrà. In Turchia sul canale Fox è stata mandata ovviamente una anticipazione, un trailer che ovviamente non svela troppo. Con il rilascio del secondo i fan della serie turca hanno avuto una conferma, il parto di Eda non sarà proprio ordinario e avverrà con l'aiuto di suo marito Serkan. Ricordiamo che Eda nella seconda stagione ha già una bambina e nel frattempo poi ha rincontrato Serkan e avrà un'altra gravidanza di cui il sesso sarà un bel maschietto. Possiamo vedere dal trailer Eda è sempre più vicina al parto, per questo motivo Serkan non vorrà perderla di vista, ovviamente lui lavora e per questo motivo non può stare con lei 24 ore su 24, però incaricherà gli altri suoi amici di tenerla sotto controllo. Il promo di Serkan Capimi si mostra proprio con questa immagine che adesso vi mostro. Serkan infatti avrà organizzato un vero lavoro di squadra, ognuno ad ogni ora dovrà tenere sotto controllo Eda fino al giorno del parto. Ovviamente Eda non sarà d'accordo e si mostrerà un po' isterica, ciò darà vita così ad alcuni momenti veramente divertenti e tragicomici dove lo sportunato Seifi durante uno dei suoi turni sarà vittima di uno proprio dei capricci di Eda. Lo spoiler di Serkan Capimi finisce proprio con questa immagine che adesso vi mostro nel video. Eccola qui! Eda sta per partorire e si sono rotte le acque, ma con lei c'è il suo marito Serkan che l'aiuterà a partorire. Ma come vediamo dalle immagini del trailer, se volete vederlo potete andare sul sito Fox Turchia, si vede un Serkan più terrorizzato della moglie. Eda infatti entrerà proprio in travaglio nel bel mezzo del bosco e il secondo trailer si apre proprio con Eda al telefono con la zia mentre gli annuncia che sta per partorire. Non ci resta altro che aspettare la puntata finale giorno 8 settembre. Per scoprire che cosa accadrà nell'ultima è imperdibile puntata di Serkan Capimi. Vi annuncio che in Italia si chiama Love is in the Air. Voi continuate a seguirmi se vi va per scoprire veramente com'è finita questa seconda stagione.